Allora ragazzi, buongiorno, buon lunedì, ben ritrovati. Oggi pagelline di Juventus-Fiorentina, partita terminata per 1-0. Nel pomeriggio mi piacerebbe portarvi un'analisi un po' più approfondita della partita sulle cose che secondo me hanno funzionato e sulle cose che secondo me invece non hanno minimamente funzionato. Quindi appuntamento ad oggi, attivate la campanellina e ovviamente andatevi a vedere anche gli altri video già usciti. C'è stato il post partita a caldo, quindi dove chiacchieravo, dove vi raccontavo quella che secondo me è stata la partita e la live reaction rieditata. L'ho chiamata live sofferenza perché veramente ieri ho sofferto tantissimo e credo che anche questo abbraccio dei calciatori della Juventus vada a raccontarci quella che è stata la partita di assoluta sofferenza, portata poi a casa dai nostri ragazzi. Allora, partiamo subito. Voto dell'allenatore. Massimiliano Allegri voto 5 perché ieri non mi è piaciuta la prestazione della squadra, non mi è piaciuta la preparazione della partita da parte di Allegri. Poi andremo ad approfondire il discorso all'interno dell'analisi della partita. Prima volta che avevamo il tridente, quindi non mi aspettavo che gli ingranaggi fossero perfettamente oliati. È abbastanza normale che una novità vada aspettata e vada anche implementata. Allegri poi nel post partita ci ha raccontato che non sempre la squadra può permetterselo. in questo momento pensava di sì. È stata, secondo me, anche una mezza ammissione di una partita di Allegri che non è stato entusiasta di quella che è stata la partita nei treni davanti. Una Juve che ha sofferto veramente tanto, proprio per via di questo buco, secondo me, che si è creato a centrocampo. Lo vedremo bene nelle slide che ho intenzione di preparare oggi pomeriggio. Soprattutto, come dicevo ieri nel post partita, questa partita qui deve insegnarci, deve lasciarci la morale, perché meno male che poi col fuorigioco di Biraghi viene fischiato. Come meno male per loro che viene fischiato quello di Vlaovic, assolutamente. Ma io parlo della Juventus, cerco di analizzare le partite della Juventus e credo che questo sia davvero il passo avanti, davvero di mentalità, anche arrivati a un certo punto della stagione. Siamo a febbraio, iniziano le Coppe Europee, dato che comunque giovedì giocheremo contro il Nantes in Europa League. Sappiamo bene che quando si alza un po' il livello, poi certi errori non te li puoi permettere, certi atteggiamenti fai fatica a digerirli. Se noi continuiamo ad abbassarci di minuto in minuto dall'inizio alla fine, soprattutto nel secondo tempo, dove la squadra è disordinata, lunga, spezzata, partiamo col tridente, finiamo con cinque difensori, quattro centrocampisti con due centrocampisti centrali e esterni, è un'unica punta abbandonata a se stessa, poi rischi di prendere gol. Quindi la gestione della partita ieri non mi è assolutamente piaciuta e credo che ci siano stati dei cambi anche abbastanza rivedibili, tipo la sostituzione di Vlaovic subito dopo il gol annullato per inserire Moise Ken, lasciando chiese di Maria, di Maria che ha fatto tantissimi tantissimi minuti in una partita che aveva dato tutto se stesso, si era veramente sacrificato per la squadra. Chiesa che viene lasciato lì e poi viene tolto, poi l'aspettiamo, poi viene tolto per Paredes, cioè un insieme di cose che ieri mi ha fatto dire, no mister, rivedibile assolutamente la prestazione, come mi era piaciuta Salernitana e Juventus, invece non mi è piaciuta Juventus-Fiorentina. È una partita che la Juve ha meritato di vincere perché ha avuto le occasioni da gol più nitide, più importanti. È una partita che la Juve poteva addirittura vincere con più gol di scarto, proprio perché abbiamo sbagliato diverse palle gol, una sola forse nata veramente da un nostro spunto che è quella di Chiesa che crossa per Vlaovic perché tutte le altre sono nati ben o male da errori della Fiorentina, a parte il gol ovviamente della Juve che è meritato, anche se anche lì veramente una sfida che abbiamo vinto di millimetri, pallone entrato di millimetri, fuorigioco di millimetri, ieri veramente ha funzionato tutto. A freddo vi dico che una partita del genere senza l'aiuto della tecnologia probabilmente non finisce 1-0 per la Juve, perché l'arbitro ha la possibilità di sbagliare, ieri vi parlavo della tecnologia che ha un po' tolto la magia, però il giorno dopo pensandoci un po' più a freddo, mente calma vi dico anche che effettivamente non ci sono stati errori proprio per questo motivo qua. È brutto, secondo me, da tifosi oggettivamente brutto attendere tutto questo tempo, non festeggiare il gol subito e immediatamente, però poi le partite hanno ricevuto un input giusto e probabilmente senza la tecnologia questo non sarebbe avvenuto, non sarebbe accaduto. Quindi in questo momento siamo di fronte all'emozione del tifoso contro l'oggettività dei dati. Fuorigioco di un millimetro è fuorigioco, è oggettivo ed è fuorigioco. Luce, non luce, emozione, non emozione, vengano in secondo piano. Finché non si troverà una soluzione alternativa a questo, bisogna tenerseli così, a meno che non si mettano dei sensori all'interno dei difensori per mantenere la linea, però credo che sia abbastanza difficile in modo che possa fischiare, possa vibrare l'orologio in diretta come quando avviene la Gollite Technology. Chiudo dicendo che ieri Allegri non avevo visto in diretta, ho visto poi i video successivamente, se l'è presa con un tifoso, io qua sono stato molto colpito in positivo da parte di Allegri, perché in questo momento io vedo un'assemiglia di Allegri lasciato abbastanza solo da parte della Juventus, perché la Juventus in questo momento, l'abbiamo detto mille volte, non si sta occupando di campo. Max, porta la Juve a finire stagione, infatti secondo me il discorso di missioni nasce proprio da lì, non abbiamo modo in questo momento, energie e tempo materiale da investire nel capire come Sistema Raio e finisci la stagione te, come va va, cerca di fare più punti possibili, in questo momento abbiamo altri problemi, parla te, dile cosa è te, fai te, allena te, gestisci te, abbandonato a se stesso completamente, è l'unico che parla effettivamente di campo. Ora io non so che cosa abbia detto quel tifoso, non so quale sia stata la scintilla, io Allegri l'avevo già visto nervoso anche nelle pre-partite, ai microfoni da Zon nell'intervista pre-partita, è un po' in realtà che lo vedo nervoso, è comprensibile che sia nervoso, a me è piaciuto questo istinto paterno da parte dell'allenatore di difendere i propri calciatori, poi è ovvio che lì per lì durante la partita tutti, diciamo, Ken sbaglia il gol, ci incazziamo, De Sciglio passa il passaggio, ci incazziamo, parete sbaglia l'uscita, ci incazziamo, cito queste tre perché li ha citati Allegri proprio nel post-partita, lo stesso Allegri hanno inquadrato dopo l'errore di Ken, il terzo errore di Ken in partita, si è incazzato, cioè è naturale, fa parte dell'essere tifoso, è naturale l'essere in partita, è naturale tutto, tutto naturale, poi ovviamente tante volte il tifoso anche allo stadio va oltre, quindi non ho idea di quella che è stata la scintilla vera e propria, quello lo sa, solo Allegri e il tifoso, probabilmente quelli che erano lì, insomma, bene o male i protagonisti, mi ha gasato però vedere l'allenatore che in questo momento è l'unica figura che si occupa della parte sportiva della Juve, l'unica, perché tutti gli altri in questo momento hanno tutt'altro a cui pensare, che nel momento difficile va a coccolare e a proteggere i suoi ragazzi, questa è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto. Andiamo avanti, Cesni voto 6, ha pagato il biglietto? Io spero di no, perché l'ha messo in porta per guardare, Fiorentina veramente mai pericolosa, nel senso, pericolosa lo è stata in realtà, ha avuto anche un indice di pericolosità importante la Fiorentina perché tante volte arrivava lì, nei pressi dell'area di rigore, tante volte noi abbiamo fatto anche passare dei palloni, sono stati tantissimi palloni crossati alla Fiorentina, perché Fiorentina ha lavorato tantissimo sugli esterni, è andata tantissimo a crossare e poi non riusciva ad impattare, ma questo non significa che noi siamo stati bravi, ieri siccome siamo stati ballerini e ieri siamo stati disattenti, per fortuna nessun giocatore della Fiorentina ha poi riuscito a impensire i Cesni, se non Castrovilli, di cui abbiamo già discusso, fuori gioco millimetrico di Ranieri, tanti dicono fallo, io ho riguardato, per la mia interpretazione quello non è fallo, non è fallo, perché è vero che lo tocca ma ci vuole un po' di più per creare, per provocare un fallo, era quello che avevo detto in diretta, lo confermo anche adesso, fuori gioco invece, è oggettivo, millimetrico, ma oggettivo come quello di Vlaovic, il gol è giustamente da annullare, Cesni non si sporca neanche i guanti, a parte questo, ma dietro balliamo, e balliamo tanto anche per colpa di Alessandro, balliamo tanto per colpa di Alessandro, perché Alessandro ieri era in versione non eccezionale, era modalità letargo, l'ho definita in live su Twitch, nella live che vi ho riportato anche qua su YouTube, è stato quel momento là in cui si gira e perde quella palla sul pressing della Fiorentina, la Fiorentina ha fatto un pressing asfissiante, ci ha messo in serie difficoltà, Alessandro è stato inglobato da questo pressing, anche ammunito, brutta partita, Alessandro, veramente è andata all'indietro, come i gamberi, voto 5, voto 6 e mezzo invece a Bremer, che mi è piaciuto, era diffidato, ha preso una munizione, quindi se l'ha squalificato per la prossima partita, dovremo reinventarci qualcosa, lunedì Bonucci torna in gruppo, vedremo se sarà lui, però Bremer ha fatto due o tre uscite, ci sono stati due o tre interventi che ho stampati nella mente, che mi hanno proprio galvanizzato, mi hanno veramente fatto sentire tranquillo e al sicuro, rispetto invece ad altre partite recenti di Bremer, dove questa sensazione non l'ho avuta, quindi 6 e mezzo a Bremer ieri mi è piaciuto, secondo me è stato anche il migliore della difesa, bene o male se la gioca con Danilo, infatti la valutazione è la stessa, però se devo scegliere tra Danilo e Bremer chi mi è piaciuto di più, quel leggermente in più lo do a Bremer. Danilo ha fatto una partita solida, tranquilla, la classica partita alla Danilo, Allegri l'altro giorno diceva che in quella posizione si gestisce anche al meglio, instancabile, dovrà faticare probabilmente ancora un po', vediamo anche se giocherà in Europa League oppure verrà tenuto a riposo in quella competizione, perché sono anche curioso di capire quale sarà un po' la lettura di Allegri per la formazione che andrà a giocare in Europa League, vediamo. 6-0 ad Esciglio, sarebbe meno di 6-0, lo dico proprio tranquillamente, perché non mi è piaciuta la partita di Esciglio, ancora una volta non mi è piaciuto, un po' insipido, forse anche qua colpa di Allegri, tra virgolette, nel senso che lo muoveva a secondare quella che era la posizione degli altri, ma perché non c'era chiarezza nella disposizione, c'è stata tanto caos, tanto confusione, lo stesso Allegri l'ha messo ai microfoni della zona del post partita dicendo c'era tanta confusione, eravano disordinati, c'era tanto disordine, confermo, concordo, concordo con quello che dice, ed Esciglio si è ritrovato un po' un pesce fuor d'acqua, perché era sempre da solo, era sempre addoppiato il lato destro della Juve ieri, ha avuto qualche problemino, ed è quello che voglio evidenziarvi poi nell'analisi post partita e farvi capire perché secondo me il tridente non ha funzionato al meglio. Ed Esciglio è sempre stato preso sotto, e quindi tante volte lo pressavano e perdeva palla, tante volte portava palla e non la scaricava e quindi perdeva il tempo di gioco. Non mi è piaciuto, è stata una prestazione da 5,5, forse anche 5 più, però il gol che facciamo nasce proprio da Esciglio, chi ci crede? Ragazzi, il gol vittoria, l'unico gol che facciamo, nasce da Esciglio che mette quella bella palla a rimorchio. Poi nel secondo tempo, là in fondo va a puntare uno contro uno nel suo, l'appoggio di Locatelli, torniamo indietro, c'è un'altra palla che se la alza, anche Vlaovic gli fa il segno di far così, probabilmente facciamo gol invece che metterla dietro a rimorchio, però in quell'occasione del gol, Esciglio mette una buona palla, mantiene il possesso, mantiene l'inerzia, l'iniziativa dell'azione e la Juventus riesce a far partire le cross di Di Maria e a insaccare con il colpo di testa di Rabiot. Quindi sicuramente Esciglio non una gran prestazione, ma poi devi valutare anche quello che è stato il modo in cui si è arrivato al gol e al gol ci si è arrivato grazie all'intervento di Esciglio. Quindi 5,5 secondo me la prestazione, leggermente un pochino più in alto proprio perché poi se vai a vedere la ciccia grossa, Esciglio ci mette la manina all'interno del gol. Votto 7 a Locatelli. Allora, Locatelli, ho ascoltato l'intervista che ha fatto a Dazon, che è uscita ieri, e gli chiedevano chi è il giocatore che ti piace di più, in cui ti rivedi di più del tuo ruolo in questo momento. Lui dice un giocatore che mai avrei immaginato di sentirgli dire che è Fabinho. Fabinho è tanta quantità. Un bel po' di qualità, ma tanta quantità. E Locatelli questo è diventato, eh. Locatelli questo sta diventando. Ieri credo che Locatelli sia stato uno dei migliori in campo. Ieri è stata una Juve di sacrificio. Ieri vi parlavo di sofferenza, e la sofferenza passa dal sacrificio, perché se le partite sono così disordinate, come dicevamo prima, se le partite sono così spaccate, se le squadre sono così lunghe, come è stata la Juventus e soprattutto nel secondo tempo, servono quegli uomini che fanno poi il doppio, o forse il triplo, per cercare di aiutare quegli altri. Locatelli in questo momento è un centrocampista, un regista, chiamiamolo un mediano, mediano è la parola giusta, perché svolge il compito di regista, perché è il giocatore che la Juventus cerca quasi sempre in uscita, perché poi le mezzali sono sempre molto alte e Locatelli invece è sempre molto basso. Ma perché Locatelli è molto basso? Perché dà una mano alla difesa. Svolge il compito di regista da dietro, quello che si occupa di far partire l'azienda da dietro, ma è anche quello che si preoccupa di non far affondare la Juventus, di non farla affossare. È l'ago della bilancia, è l'equilibratore. E il fatto che abbia detto Fabinho ti fa capire che si sta evolvendo verso quel principio di giocatore lì. ce lo siamo sempre immaginati a partire dalle prime apparizioni come un giocatore più elegante. Invece Locatelli sta diventando un giocatore molto più di fatica. Probabilmente per quello che vi viene richiesto da parte di Allegri, probabilmente non per le sue caratteristiche, perché secondo me potrebbe essere un'ottima mezzala, perché ha qualità e sicuramente negli ultimi metri riesce a sprigionare questa qualità, ma la quantità, la quantità che ci mette in fase di non possesso Locatelli è tanta roba. Poi la gente mi dice eh sì però mi sbaglia i passaggi e questo e quell'altro. È vero, è vero. Non ha una precisione passaggi del 85%, 89%. Non è il metronomo, non è Pirlo, non è Modric per intenderci, ma gioca in una posizione molto delicata, in una Juventus che fa molta fatica a gestire il pallone in uscita dal basso, ed è un giocatore che si preoccupa più che altro di dare equilibrio alla squadra. Quindi bisogna valutarlo Catelli nelle due fasi, certo. Secondo me è ancora indietro nella fase di possesso e costruzione, secondo me è migliorato tantissimo nella fase di non possesso, nella fase in cui deve andare a dare supporto dietro, perché gioca quasi da quarto centrale, quasi da difensore centrale, quasi da difensore centrale insieme a Bremer, con Danilo e Alexandro ai lati. È un centrale leggermente più avanti, con Bremer che è libero, quindi a Locatelli va riconosciuto questo e sta facendo un 2023 veramente di livello. Poi aggiungiamo che la qualità comunque ce l'ha e infatti il gol di Vlaovic annullato per millimetri nasce proprio da uno spunto di Locatelli, da un passaggio di Locatelli che anche lì però va in lotta, va della guerra, va a lottare dentro la partita. Tanta roba a Locatelli. Voto 7 anche a Rabiot e ora direte wow, due centrocampisti 2-7 ai due centrocampisti. Nella live reaction dico gol di Rabiot ma Rabiot fino a questo momento non ha fatto una gran partita e lo confermo perché Rabiot la gran partita la fa sul lungo. 30 secondi e ha munito. 25-30 minuti 35 minuti non mi ricordo gol e poi nasce una nuova partita perché la mia speranza era ok abbiamo fatto gol adesso iniziamo a metterci meglio ci disponiamo meglio cerchiamo di capire come metterci abbiamo un gol di vantaggio non siamo più ossessionati dal gol invece peggioriamo dal gol in poi peggioriamo perché perché ovviamente con questo tridente la parola chiave è cercare di far arrivare il pallone agli attaccanti palla bassa possibilmente dagli esterni per andare centrali noi qua facciamo il contrario cerchiamo sempre Vlaovic in uscita e poi andiamo sugli esterni nel caso forse non è questo il modo non è non è così che funziona con dei giocatori del genere con queste caratteristiche e per far arrivare la palla lì allora ti immagini che sia al centrocampo per fare un certo tipo di gioco no? no quello che dicevo prima per Locatelli vanno valutati in fase di non possesso o non possesso che in fase di possesso centrocampo la Juventus eri male ma perché tutta la squadra ha fatto male difficile salvare qualcuno in una fase di possesso la Juventus tranne uno che poi vedremo dopo che era quello che dava il via l'azione che aveva lo spunto ma in fase di non possesso questi due davanti alla difesa hanno creato una sorta di diga sul lungo poi sono dei diesel dei giocatori che hanno funzionato veramente bene sul lungo quindi tanta tanta roba Rabiot-Locatelli nella mediana 2 però anche qui c'è un però che vedremo poi nell'analisi oggi pomeriggio però Rabiot-Locatelli ragazzi hanno fatto una partita di un'intensità clamorosa intensità clamorosa Locatelli è quello che ha corso di più tutta la Juve 12 km Rabiot-Locatelli siamo lì e ha fatto anche il gol vittoria quindi veramente Rabiot-Locatelli e Kostic sono tre di quelli che si sono sacrificati di più non i tre che si sono sacrificati di più perché ne vedremo un altro Kostic nell'ultimo metodo impreciso si mangia anche un gol abbastanza clamoroso poi si mette a completa disposizione della squadra anche perché ieri c'era bisogno di correre di più quello che vi dicevo prima in questi contesti in queste partite ci vogliano quelli che si sacrificano di più Kostic Rabiot-Locatelli insieme a Angel Di Maria io gli ho dato sette poi probabilmente sette anche poco perché probabilmente si meritava anche qualcosa di più il migliore in campo è Di Maria ieri è il migliore in campo perché da Di Maria tu non ti aspetti che diventi il giocatore che si va a sporcare i pantaloncini non te lo aspetti non è quel giocatore lì non è Angel Di Maria o almeno non è Angel Di Maria a quest'età perché comunque la Champions con Real la vince da mezzala che diventa trequartista che diventa esterno quindi giocatore che va a tutto campo un po' quello che ha fatto ieri regista della Juventus a tutti gli effetti il regista perché perché prima dicevamo i compiti ce li ha Locatelli per Locatelli difficilmente si stacca perché dà più un occhio dietro a non prenderlo Di Maria è quello che accende la luce è quello che viene dentro il campo è quello che va a prendere il pallone perché sennò il pallone là non arriva è quello che regala qualità è quello che regala il pallone a Rabiot per 1-0 è quello che verso la fine della partita va a fare il terzino è quello che va a fare il mediano è quello che è quello che ieri ti vado a vincere la partita banalmente la qualità che ha messo Di Maria la può mettere solo Di Maria in questa Juve la quantità che ha messo Di Maria ieri la possono mettere tutti non mi aspetto che la vada a mettere Di Maria fatto 70 minuti clamorosi secondo me Di Maria infatti non credo di vederlo giocare col Nant a questo punto perché ha avuto un dispendio energetico elevatissimo elevatissimo ho fatto una partita clamorosa di Maria 5 e mezzo a Chiesa non mi è piaciuto non mi è piaciuto Chiesa non mi è piaciuto perché è andato veramente a fiammate un paio di fiammate quella sul cross di Vlaovic dove ha fatto lo suo è stata siccome l'azione più bella costruita dalla Juventus perché quello che dovrebbe fare in realtà la Juventus come un trend di questo tipo e non è stato fatto e è quella in cui si cambia con Di Maria in cui strozza al tiro bene o male altre altri momenti in cui Chiesa protagonista ma perché perché ieri l'ho visto tanto dentro al campo più troppo dentro al campo rispetto a quelle che erano le mie aspettative e questo nasce proprio dal fatto che secondo me erano messi male in campo quindi Chiesa che non voleva nemmeno uscire voleva rimanere voleva decidere la partita voleva essere protagonista nella sua partita da ex non è stato così e secondo me non è solo colpa di Chiesa che non basta quello che dicevo ieri all'inizio nella live reaction non basta metterli cioè non è sufficiente ce li ho li metto bisogna anche cercare di strurirli in un certo modo perché se no non funziona voto 5 e mezzo a Vlaovic perché io da Vlaovic voglio qualcosa in più assolutamente qualcosa in più che mi attacchi quella palla che mi mette Chiesa che non stia lì a guardarla e che non vada a ringraziarlo prima perché Milenkovic può sbagliare Milenkovic sbaglia quella palla passa e quella è una palla facile per un come Vlaovic e voglio che che sia più cattivo voglio che sia più cattivo fa un ruolo difficile ieri sera sentivo Davo parlare diceva questa è una squadra antipatica per numero 9 è la squadra più antipatica e rognosa del mondo questa per numero 9 però lui deve migliorare deve migliorare perché lui è molto bravo spalla la porta ad aprire il gioco quando viene quando si abbassa e quindi si muove lui e va ad aprire il gioco perché tecnicamente è bravissimo quando invece è fermo spalla la porta fa molta più fatica e la Juventus spesso e volentieri cerca questo gioco ora le strade sono due sono due o smettiamo di cercare sempre Vlaovic spalla la porta e iniziamo a servirlo sulla profondità come abbiamo fatto a Salerno e dove è venuta fuori una Juventus che si è mossa meglio un Vlaovic che è andato spesso al tiro un Vlaovic che è tornato decisivo e sembrava essere tornato il Vlaovic dei tempi d'oro oppure iniziamo anche a migliorare dato che c'è anche questa caratteristica negli attaccanti e per migliorare sempre più e diventare completi bisogna migliorare anche in questo iniziamo a migliorare spalla la porta perché non tiene un pallone spalla la porta non ne tiene uno quindi la colpa è dell'allenatore che non va a massimizzare quello in cui l'attaccante è veramente bravo secondo me è anche colpa dell'attaccante che non va a migliorare in quel fondamentale che gli è maggiormente richiesto all'interno della partita quindi io da Vlaovic pretendo di più che non mi si disattivi quando quei palloni arrivano e che vada a lavorare quelle palle lì che non sono le sue perché lui è veramente bravo spalla la porta ma muovendosi andando a prenderla verso il centro del campo però deve migliorarmi anche nelle altre perché non è possibile che non tenga mai un pallone contro nessun difensore quando spalla la porta questa cosa non è possibile non è esultato al gol allora non è esultato al gol io sono sempre di quella a meno che non sia stata una storia incredibile clamorosa d'amore nei confronti di una squadra mi viene in mente Lampard che fa gol al Chelsea con la Maya e Manchester City credo che sia giusto che Lampard non esulti per quello che è stato al Chelsea non vedo il motivo per uno come Vlaovic a non esultare nei confronti della Fiorentina che sì l'ha lanciato quello che volete ma stati tre anni quattro anni due anni non lo so nemmeno stiamo parlando di io lo trovo sempre rispettoso nei confronti dei tuoi tifosi poi sono il primo che Bonucci fa gol alla Juventus esulta mi dà fastidio poi possiamo discutere che Bonucci rientri nella parte di quelli importanti le storie non storie Lampard Vlaovic Higuain che esulta e cerca di Laurentiis mi fa impazzire Higuain che il primo gol che fa il Napoli non esulta mi fa arrabbiare quello ognuno ha la sua lettura inutile stare qua a discutere ognuno avrà sempre la sua lettura per me è giusto che il calciatore esulti anche contro la sua ex squadra a meno che non sia stata veramente una storia decennale in cui si parla di un pezzo di storia del club non mi sembra il caso di Vlaovic Fiorentina mi è dispiaciuto non vederlo esultare poi il gol è stato annullato e va bene però mi sarebbe piaciuto vedere un'esultanza da parte di Vlaovic questo non c'entra niente col piano tecnico ovviamente Fagioli voto 6 che quando è entrato si è messo lì e ha detto metto i miei piedini i miei polmoni a disposizione della squadra perché qui se no diventa un bel casino niente di che è stato anche abbastanza assorbito all'interno della partita che ieri ormai aveva preso una piega troppo diversa da quella che doveva essere tanti auguri Fagioli perché ieri era il suo compleanno Ken voto 5 perché oggettivamente come voglio di più da Vlaovic lo voglio anche da Ken a Ken non gli si chiede chissà che cosa ma non mi si può disattivare quando c'è Chiesa dentro l'area che chiede il pallone con Kostic lì che chiede l'appoggio per mettere la palla di prima dentro e noi ci prendiamo il calcio d'angolo li facciamo mettere a posto li facciamo respirare li facciamo tornare e no bisogna giocare velocemente negli ultimi metri puoi sbagliare ci sta che oh lo sbagli se me ne sbagli tre però di palle e gol così importanti poi diventa difficile quindi anche qua bisogna migliorare Moise per Dio giochiamo nella Juventus Juventus non si possono sbagliare queste cose qui santo il Signore dai Moise su migliora anche te per favore ne abbiamo bisogno serve a te serve a noi serve a tutti e nell'interesse di tutti senza voto a Paredes ingresso che ho ritenuto abbastanza senza senso ma questo l'ho già sottolineato in più occasioni mi ha fatto impazzire l'avete visto nella live reaction quando ha perso quella palla in uscita da dietro che ha passato praticamente il pallone alla Fiorentina per fortuna è andato tutto bene e quindi siamo qui che possiamo parlare di lui che vince per cosa non lo sappiamo questo discorso a parte legato alla Serie A ma adesso possiamo iniziare a concentrarci anche sull'Europa League ci vediamo ovviamente oggi pomeriggio con l'altro video e ci vediamo giovedì allo stadio